Giro di Boa per la settima stagione di Squadra Antimafia, la cui sesta puntata, di 10 episodi in totale, andrà in onda mercoledì 14 ottobre alle ore 21.10 su canale 5. Gli eventi della fiction media sitcom Marco Bocci, Giulia Michelini e Giovanni Scifoni si fanno sempre più concitati e i confini tra bene e male cominciano a farsi sempre più sottili. Lo dimostra il personaggio di Domenico Calcaterra, interpretato dall'amatissimo Bocci, che in questa annata si è trasformato in un ambiguo antieroe, tormentato da vuoti di memoria che lo portano a uccidere a sangue freddo. E se dice quest'ora nascondesse una verità ancora più inquietante? Come rivelano le anticipazioni sulla sesta puntata, Domenico inoltre rischierà nuovamente la vita, dopo essere rimasto vittima di una sparatoria nei primi episodi, mentre il suo presunto rapporto con il broker solleverà dubbi da parte dei colleghi. Nel frattempo, Davide Tempofosco, chiamato a sostituire temporaneamente Calcaterra, continua a indagare su Crisalide. La soluzione sembra essere sempre più vicina e una cosa è certa. La Ferretti sa molto di più di quello che ha dichiarato, come dimostra il suo rapporto con il sanguinario Filippo De Silva. Grazie a tutti.